la torre di chia cara al poeta scrittore regista pierpaolo pasolini questa torre che vedete nelle immagini insomma riprenderla da qui è stato un po difficile perché abbiamo dovuto fare un lungo sentiero attraverso il bosco e appartenuta appunto a pierpaolo pasolini che si innamorò di questo posto quando venne a visitarlo poi qui vicino abbiamo scoperto quasi per caso che ambientò parte del suo film il vangelo secondo matteo ci troviamo tra chia e soriano del cimino quindi in provincia di viterbo pensavo che il posto fosse tenuto peggio invece c'è anche un cancello piuttosto nuovo che oggi protegge tutta la proprietà del poeta che è stato appunto di pierpaolo pasolini sicuramente un posto interessante da vedere e evocativo e noi ci vediamo tutti e tutti su ematube.it